Come la vedi questa partita del Quirinale? Appunto, io citavo questo pezzo di folli di oggi, mi ha molto colpito, che i partiti sono talmente deboli, che è questa partita complicatissima, che comunque ha bisogno di regie. Regie che poi, ragione Bruno, spesso e volentieri finiscono in frantumi, pensiamo ai 101 e a tante altre storie. Però, in questo momento, è anche difficile capire come ci si muove, no? Sì, diciamo che i nomi vengono raccontati, si parla anche di Pierferdinando Casini, si parla di Gentiloni, si parla di Franceschini. I nomi sono tantissimi, ed è come leggere un foglietto, nel senso che si tengono i nomi, poi magari noi andiamo a testare per vedere quello che piace di più ai cittadini, però si ferma tutto qui, perché noi abbiamo imparato, la storia ci ha insegnato che una volta che iniziano ad entrare alla Camera a votare, tutto cambia e esiste sempre una sorpresa.